Piper. Piper non sapeva spiegare come facesse a saperlo. Le storie di fantasmi e di anime in pena l'avevano sempre tormentata. Suo padre scherzava continuamente sulle leggende cerochi di nonno Tom giù alla riserva, ma perfino a casa, nella loro grande villa a Malibu affacciata sul Pacifico, ogni volta che le raccontava qualche storia di fantasmi, lei non riusciva mai a togliersene dalla testa. Gli spiriti cerochi erano sempre inquieti, perdevano spesso la strada per la terra dei morti, oppure restavano tra i vivi per pura ostinazione. A volte non si rendevano nemmeno conto di essere morti. Più cose Piper imparava sul mondo dei semidei, più si convinceva che le leggende cerochi e i miti greci non erano poi tanto diversi. Quegli eidolon si comportavano in modo molto simile agli spiriti delle storie di suo padre, e lei aveva la netta sensazione che fossero ancora lì, soltanto perché nessuno aveva detto loro di andarsene. Quando finì di spiegarsi, gli altri la guardarono imbarazzati. Di sopra, sul ponte, Edge cantava qualcosa che somigliava molto a una canzone dei Village People, con Black Jack che protestava pestando gli zoccoli. Alla fine, Hazel sospirò. Piper ha ragione. «Come fai a dirlo?» domandò Annabeth. «Ho conosciuto gli eidolon negli inferi, quando ero… insomma, avete capito?» «Morta». Piper aveva dimenticato che Hazel stava vivendo una seconda vita. A modo suo, anche lei era uno spirito risuscitato. Allora, Frank si passò la mano sui capelli a spazzola, come se i fantasmi gli avessero colonizzato lo scalpo. «Pensi che questi… cosi… siano nascosti da qualche parte a bordo o… forse si nascondono dentro qualcuno di noi?» rispose Piper. «Non lo sappiamo». Jason strinse il pugno. «Se questo è vero, dobbiamo prendere provvedimenti, e credo di poterlo fare». «Fare cosa?» domandò Percy. «Ascoltatemi bene». Piper trasse un respiro profondo. «Tutti quanti!» incrociò i loro sguardi, uno alla volta. «Eidolon, alzate le mani!» ordinò, usando la lingua maliatrice. Ci fu un silenzio teso. Leo rise nervosamente. «Non penserai davvero che…» La sua voce si spense, il volto si afflosciò. Una mano si sollevò. Jason e Percy fecero altrettanto. I loro occhi erano vitri e dorati. Eisel rimase senza fiato. Accanto a Leo, Frank saltò su dalla sedia e si appoggiò con la schiena contro il muro. «Oh dèi!» Annabeth rivolse a Piper uno sguardo implorante. «Puoi curarli!» La figlia di Afrodite avrebbe voluto piagnucolare e nascondersi sotto il tavolo, ma doveva aiutare Jason. Non riusciva a credere di essere stata a mano nella mano con… No, si rifiutava di pensarci. Si concentrò su Leo, perché era quello che la intimidiva di meno. «Ce ne sono altri di voi su questa nave?» «No», rispose Leo con una voce cupa. «La madre terra ci ha mandati in tre. I più forti, i migliori. Torneremo in vita». «Non qui, non lo farete!» ringhiò Piper. «Ascoltatemi bene!» Geson e Percy si voltarono verso di lei. Quegli occhi dorati erano inquietanti, ma vederli tutti e tre in quelle condizioni rinvigorì la rabbia di Piper. «Voi lascerete questi corpi!» ordinò. «No!» replicò Percy. Leo sibilò piano «Dobbiamo vivere!» Frank afferrò l'arco. «Per Marte onnipotente è da brividi! Andate via, spiriti! Lasciate in pace i nostri amici!» Leo si voltò verso di lui. «Non puoi darci ordini, figlio della guerra! La tua stessa vita è fragile. La tua anima potrebbe bruciare in qualsiasi momento!» Frank barcollò come se avesse ricevuto un pugno nello stomaco. Sfilò una freccia dalla faretra, con mani tremanti. «Ho affrontato cose peggiori di te! Se vuoi combattere, Frank no!» Hazel si alzò. Accanto a lei, Geson estrasse la spada. «Fermi!» ordinò Piper, ma la sua voce era debole. Stava rapidamente perdendo fiducia nel proprio piano. Aveva costretto gli Eidolon a manifestarsi, e poi, se non riusciva a convincerli ad andarsene, ogni goccia di sangue versato sarebbe stata colpa sua. In un angolino della mente, le sembrò di sentire la risata di Gea. «Ascoltate Piper!» Hazel puntò il dito contro la spada di Geson. La lama d'oro si appesantì e cadde sul tavolo, mentre Geson si accasciava sulla sedia. Her si ringhiò in un tono che non gli apparteneva per niente. «Figlia di Plutone! Forse puoi controllare le gemme e i metalli, ma non hai nessun controllo sui morti!» Annabeth allungò una mano come per fermarlo, ma Hazel le fece cenno di farsi indietro e disse in tono severo «Ascoltate, Eidolon, non appartenete a questo posto. Forse io non posso darvi ordini, ma Piper sì! Ubbidite a lei!» E si voltò verso Piper, con una chiara espressione in viso. «Riprovaci! Puoi farcela!» La figlia di Afrodite raccolse tutto il proprio coraggio. Guardò Geson dritto in faccia, dritto negli occhi della cosa che si era impossessata di lui. «Voi lascerete questi corpi!» ripetè, con molta più forza di prima. Il volto di Geson si irrigidì. La fronte gli si imperlò di sudore. «Lasceremo questi corpi!» «Giurerete sul fiume Stige che non farete più ritorno su questa nave e che non prenderete più possesso di nessun membro di questo equipaggio!» continuò Piper. Leo e Percy si bilarono. «Giurate sullo Stige!» Un momento di tensione. Piper percepì le volontà degli spiriti, che cercavano di opporsi alla sua. Poi tutti e tre gli Eidolon parlarono all'unisono. «Giuriamo sullo Stige!» «Voi siete morti!» continuò la figlia di Afrodite. «Siamo morti!» concordarono. «Ora andatevene!» I tre crollarono come sacchi vuoti. Percy cadde a faccia avanti sulla pizza. «Persi!» Annabeth lo afferrò al volo. Piper e Hazel afferrarono Geson per le braccia prima che scivolasse giù dalla sedia. Leo fu meno fortunato. Cadde verso Frank, che non mosse un dito per intercettarlo. Un attimo dopo, era a terra. «Ai!» gemette. «Stai bene?» chiese Hazel. Leo si tirò su. Aveva uno spaghetto sulla fronte. «Ha funzionato?» «Ha funzionato», confermò Piper. «Non credo che torneranno». Jason strizzò le palpebre. «Significa che finalmente la pianterò di prendere botti in testa?» Piper rise, liberandosi di tutto il nervosismo accumulato. «Coraggio, fulmine! Andiamo a prendere una boccata d'aria fresca!» Piper e Jason passeggiavano sul ponte. Jason era ancora un po' debole, perciò Piper lo invitò ad appoggiarsi a lei. Leo era al timone e confabulava con Festus tramite interfono. Sapeva per esperienza quando era il caso di lasciare ai suoi migliori amici un po' di spazio. La tv satellitare era tornata in funzione, perciò Edge era nella propria cabina, ad aggiornarsi allegramente sugli ultimi tornei di arti marziali. Black Jack era volato via chissà dove. Gli altri semidei erano andati a dormire. Largo 2 volava verso Est, viaggiando a diverse centinaia di metri di altezza. Sotto l'imbarcazione, minuscole cittadine spuntavano e scomparivano, come isole di luce in un mare di erba scura. Piper ripensò a quell'inverno, quando avevano sorvolato il Quebec in groppa Festus, non aveva mai visto niente di più bello, né si era mai sentita più felice tra le braccia di Jason. Ma lì, su Largo 2, era perfino meglio. La notte era tiepida, la nave viaggiava molto più dolcemente del drago. Soprattutto si stavano allontanando molto rapidamente dal campo Giove. Per quanto le antiche terre fossero pericolose, Piper non vedeva l'ora di arrivare. Sperava che Jason avesse ragione e che i Romani non vi seguissero oltre l'Atlantico. Jason si fermò a metà della nave e si appoggiò al parapetto. La luce della luna illuminava d'argento i suoi capelli chiari. «Grazie, Piper. Mi hai salvato di nuovo», disse, mettendole un braccio intorno alla vita. Lei ripensò al giorno in cui erano caduti nel Grand Canyon, quando aveva saputo che Jason era in grado di controllare l'aria. Mentre lui la stringeva forte, era riuscita a sentire il battito del suo cuore. Poi avevano smesso di cadere ed erano risaliti, fluttuando. Jason, il suo ragazzo, il migliore. Avrebbe voluto baciarlo, ma qualcosa la trattenne. Non so se Percy si fiderà più di me, dopo che ho ordinato al suo cavallo di colpirlo. Jason rise. «Non ti preoccupare. Persi un bravo ragazzo, ma ho la sensazione che una botta in testa di tanto in tanto gli faccia soltanto bene. Hai rischiato di ucciderlo». Il sorriso di Jason si spense. «Non ero in me». «E io ti ho quasi permesso di farlo». Piper strizzò gli occhi, maledicendosi per le lacrime che premevano per uscire. Quando Gea mi ha detto che dovevo scegliere, ho esitato. E non essere così dura con te stessa, la consolo Jason. Ci hai salvati entrambi. Ma se due del nostro equipaggio devono veramente morire. Un ragazzo e una ragazza. Mi rifiuto di accettarlo. Noi fermeremo Gea. E torneremo sani e salvi da questa impresa, tutti e sette. Te lo prometto». Piper avrebbe preferito che non lo dicesse. Parlare di promesse non faceva altro che ricordarle la profezia dei sette. «Con l'ultimo fiato, un giuramento si dovrà mantenere». «Ti prego, fa che non sia l'ultimo fiato di Jason», implorò senza parlare, chiedendosi se sua madre potesse udirla. «Se l'amore significa davvero qualcosa. Non portarmelo via». Ma provò rimorso, non appena ebbe formulato quel desiderio. Come avrebbe sopportato la vista di Annabeth affranta dal dolore se fosse stato Persi a morire. Tutti loro, nessuno escluso, ne avevano già passate tante. E lei si sentiva legata perfino a quei due nuovi romani, Hazel e Frank, che conosceva appena. Al campo Giove, Persi aveva raccontato del loro viaggio in Alaska, che sembrava atroce quanto le esperienze che erano toccate a lei. E dal modo in cui Hazel e Frank avevano cercato di aiutarla durante l'esorcismo. Capiva che erano brave e buone persone. La leggenda a cui Annabeth ha accennato a proposito del marchio di Atena. «Perché non hai voluto parlarne?» Temeva che Jason la zittisse, ma lui abbassò il capo come se si fosse aspettato la domanda. «Pipe, non so quanto ci sia di vero. Quella leggenda potrebbe essere molto pericolosa.» «Per chi? Per tutti noi.» «Secondo la leggenda, quando i romani conquistarono le città dei greci nell'antichità, rubarono qualcosa di importante.» Paeper restò in attesa, ma Jason sembrava assorto nei propri pensieri. «Che cosa rubarono?» gli chiese dopo un po'. «Non lo so», ammise lui. «Non credo che qualcuno nella legione l'abbia mai saputo. Ma stando alla leggenda, questa cosa fu portata a Roma e nascosta là da qualche parte. I figli di Atena ci odiano da allora. Hanno sempre sobillato i loro fratelli contro i romani. Ma come ti dicevo, non so quanto ci sia di vero.» «Perché non l'hai detto ad Annabeth?» osservò Paeper. «Non comincerà mica a odiarti così, all'improvviso? Spero proprio di no. Ma la leggenda dice che i figli di Atena cercano questa cosa da millenni. Ogni generazione la dea ne sceglie qualcuno per cercarla. A quanto pare sono guidati fino a Roma da un segno di qualche tipo. Il marchio di Atena.» «Se Annabeth è uno di questi cercatori, dovremmo aiutarla.» «Forse.» Jason esitò. «Quando saremo più vicini a Roma le dirò il poco che so. Ma questa storia, almeno per come l'ho sentita io, dice che se i greci dovessero mai trovare ciò che fu rubato, non ci perdonerebbero mai. Distruggerebbero la legione in Roma, una volta per tutte. Dopo quello che Nemesi ha detto a Leo sulla distruzione della città di qui a cinque giorni.» Paeper studiò il volto di Jason. Era senza ombra di dubbio la persona più coraggiosa che avesse mai conosciuto, ma si rese conto che aveva paura. Quella leggenda, l'idea che qualcosa avrebbe potuto annientare il loro gruppo e radere al suolo una città, lo terrorizzava. La figlia di Afrodite si chiese cosa mai potesse esserci di tanto importante. Cosa era che i romani avevano rubato ai greci? Non riusciva a immaginare nulla che rendesse Annabeth all'improvviso vendicativa. Ma del resto non riusciva a immaginare nemmeno di preferire la vita di un semidio a quella di un altro. Eppure, in quella strada deserta, solo per un istante. Gea l'aveva quasi tentata. «A ogni modo, scusa», disse Jason. Paeper si asciugò l'ultima lacrima dal viso. «Scusa per cosa? È stato l'Eidolon ad attaccare. Non per quello. La piccola cicatrice sul labbro superiore di Jason risaltava candida alla luce della luna. Paeper aveva sempre amato quella cicatrice. L'imperfezione rendeva il suo volto molto più interessante». «Sono stato uno stupido a chiederti di contattare Reina», chiarì lui. «Non stavo ragionando». Paeper volse lo sguardo verso le nuvole e si chiese se Afrodite non lo stesse in qualche modo influenzando. Le sue scuse sembravano troppo belle per essere vere. «Ma non ti fermare», pensò. «Non c'è problema, davvero. È solo che... non ho mai provato nulla di quel genere per Reina», spiegò Jason. «Perciò non ho pensato che la cosa potesse metterti a disagio. Non hai niente di cui preoccuparti». «Ho provato a odiarla», ammise lei. «Avevo tanta paura che tu volessi tornare al campo Giove». Jason sembrò sorpreso. «Non succederà mai, a meno che tu non venga con me. Te lo prometto». Paeper lo prese per una mano. Riuscì a sorridere, ma stava pensando un'altra promessa. «Con l'ultimo fiato, un giuramento si dovrà mantenere». Cercò di togliersi quei pensieri dalla testa. Avrebbe dovuto godersi quell'attimo di serenità con Jason. Ma gettando lo sguardo oltre il parapetto, non poteva fare a meno di notare quanto la prateria di notte somigliasse a una massa scura, come il pozzo senza fondo che aveva visto nella lama del pugnale.